Collaborare tutti insieme per risolvere o almeno tamponare l'emergenza senza tetto e persone sgomberate dalle case popolari a Pescara. Ne parliamo con l'assessore Nicoletta D'Inisio. Il progetto è mandare fuori tutte quelle persone che hanno abusivamente fatto di propria proprietà gli appartamenti. E' ovvio che questa gente una volta buttata fuori dagli appartamenti deve essere aiutata. Il Comune insieme al Sindaco in concorda con gli altri assessori stiamo tutti quanti insieme lavorando insieme agli assistenti sociali per dare un aiuto per l'appunto a queste persone. Ovvio che se queste persone decidono di non farsi aiutare il problema diventerà ancora più grave. Senza tetto, gli sgomberati dagli appartamenti e dunque la prossima settimana sicuramente faremo un incontro anche con la Caritas Don Marco, il Sindaco e tutti gli assessori per vedere un'iniziativa al più presto da fare. Di forza di cose dobbiamo metterci insieme, di forza di cose dobbiamo far capire a tutte queste persone che noi siamo pronti ad aiutarli. Noi, il Comune c'è per dare loro una mano, soprattutto perché poi subentra anche una questione igienica sanitaria. E queste persone vanno giornalmente avanti senza lavarsi, senza mangiare, nel degrado più umano. Allora, noi stiamo cercando insieme di dargli una mano. Ovvio che qualora queste persone rifiuteranno questa mano, questo aiuto, troveremo altre soluzioni magari anche più drastiche.